Sette secondi, aggressiva difesa di Crema, ma è bella la palla e poi il tap-in di Gersetti. Ancora da affrontare la zona proposta dai cremaschi. Si accoppiano subito i giocatori in maglia nera, mentre gran palla. Ancora liberati che fa a tirare in qualche modo in arrivo, invece prende la schiaccione di Gersetti. Eccolo qua, schiacciata di Gersetti e time-out obbligato per la panchina. Paglia d'altra parte, collabora con Squeo, ancora aggressiva la scelta sul Piccarol Bergamasco. La palla poi arriva, cazzolato, cerca Pulazzi, che segna! E spiepisce fallo. Bella azione della Comarca. Paglia la tripla con... Manuelli, subito dall'altra parte, Squeo, per Pullazzi! Che inchioda! Uno schiaccione! E senza ombra di dubbio andrà al numero uno della Top 5 settimanale per Bergamo. Si chiuscì! E senza ombra di dubbio e... E senza ombra di dubbio e... Està un po' di dubbio e qualsiasi... ... ... ... ... ... Grazie a tutti